Ci sono cose che le persone vedono solo dopo che sono state fotografate. Solo allora ho capito l'intensità di quel ritratto. E solo allora ho capito che le storie hanno molta più importanza di qualsiasi altra cosa in fotografia. Ero io che dovevo entrare nel loro mondo e raccontarlo in fotografia. Ho avuto pochissimi secondi per fare la foto giusta, è stato istinto. L'approccio che io avevo alla fotografia non poteva essere lo stesso. Io avrei dovuto parlare di più a lui, anche se ormai era troppo tardi. E la persona era congelata, dura. Ma lui non l'ha lasciata. I tedeschi distinto gli hanno sparato. Queste storie sono rimaste in lui. In quel paradiso così enorme, ho avuto la sensazione di essere davvero l'unico uomo sulla terra. Avvicinati a me, pietra viva. Ti mostrerò qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre. Ti mostrerò qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre.